buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete sarai particolarmente generoso darai più di quanto non riceverai toro avrete una speciale sensibilità a tutto quello che vi succede intorno oggi gemelli ottima giornata solo con qualche piccolo contrattempo in serata cancro se pensate di essere perseguitati dalla sfortuna non perdetevi d'animo leone se pensate di aver ricevuto un torto fate del perdono la vostra arma migliore vergine piccole novità potrebbero aglietare la vostra giornata bilancia se negli ultimi tempi avete subito lo stress è anche un tantino colpa vostra e del vostro stile di vita scorpione oggi giove potrebbe favorire qualche novità importante in ambito lavorativo sagittario una bella sorpresa vi aspetta in questo periodo davvero in attesa e che vi sorprenderà capricorno oggi non confidatevi con nessuno acquario contate fino a 10 prima di scaldarvi potreste trovarvi di fronte a brutte sorprese pesci ordinariamente non avete bisogno degli altri ma oggi fate un'eccezione e chiedete consiglio liberamente questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo